Salve amici, oggi farò un video su Assassin's Creed 2 Eloquendo. Spero che vi piaccia. Porca puttana torna. Mi hai rubato 100 euro. Col cazzo che torno. Cazzo. Se ti prendo sei morto stupido coglione, hai capito? No, non ho capito, sono solo un ladro, non un intellettuale. XDDDD. Porca puttana. Sai a quanta gente ho assassinato, per prendere 100 euro. No, quanti? 20. E il prossimo sarei tu se non mi restituisci i soldi. Che vergogna. Un tizio che ammazza per guadagnare soldi, io gli darei l'ergastolo. Anzi no, la sedia elettrica XDDD. Tizio dell'ergastolo, vai in prigione a dare ergastoli, basta che non mi rompi le palle. Cazzo. C'ero andato, ma non c'era lavoro, non mi hanno preso. Capito, se ti levi dall'età. Io ti faccio trovare lavoro, porca troia, comunque pensiamo ad acciuffare il ladro. Ci giunge dalla regia che i soldi non sono in euro, ma sono in fiorini. Ma cazzo. Prima mi dite che sono in euro, e poi mi dite che sono i fiorini, cazzo. Non sapete manco la storia, scusate, lo so, ma c'è stato un piccolo sbaglio. Mi sembrava che nel libro di storia c'era scritto euro, ma invece quando ho letto bene, c'era scritto fiorini. Sei licenziato. Nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo. Porca puttana. Devo pensare al ladro. Ecco qui. Acciuffato. Ciao chi cazzo sei? Dimmelo se no ti ammazzo. Calmati. Sono il conte stupratore. Escusami se ti ho truffato, comunque, ti volevo offrire un lavoro. Il lavoro si trattace però mi donace stupri, avrai mi di fiorini. Capito, accetto. Mi le bastano e come. Prendi il cazzo di accionio, la tuta di sardo ma so, che sto ce hai a dorso andrà benissimo, e chissi dedere. Ok, ma quante ore sono di lavoro? Ma sei ore al giorno. Un'altra cosa, in queste sei ore c'è la pausa? No, sono sei ore consecutivamente, xd. Allora mi farà male il cazzo. Tranquillo che incluso la vasalina, così non ti bruciera. Ok, allora io vado. Oh merda. Mi sono bagnato il vestito nuovo, l'avevo comprato dai cinesi per 5 fiorini, xdd. Lì che un tifio c'è nuota xd. Ma che cazzo avete da guardare? Ecco qui, proviamo a salire di qua. Niente, faccio il giro, volevo fare solo della figura alla gente. xd. Vabbè, ragazzi per oggi è finito. Al prossimo video, spero che vi sia piaciuto xd.